L'altra grande è appunto la mancanza di dispositivi. Guardi cosa è arrivato da Roma, questo è un panno che di solito si usa con un po' di detersivo per pulire il tavolo. Non può essere una mascherina, non si può andare in guerra con le fionde, non è possibile e la gente cerca in ogni parte della Sicilia, mi chiamano i sindaci, mi chiamano i medici, mandateci le mascherine, anche noi aspettiamo i dispositivi da Roma. Non voglio polemizzare per carità, ma siamo arrivati al punto di non ritorno. Io ieri ho capito che dalla protezione civile stanno facendo dei grandissimi acquisti, se ho capito bene, milioni di pezzi. Andava fatto prima, ai primi di marzo bisognava requisire due, tre aziende, collocare un dirigente dello Stato e dire voi da domani producete questo tipo di prodotto.